TR Trieste Quella di oggi è una puntata molto particolare di Trieste Arte. Nel corso delle puntate precedenti, molto spesso, abbiamo citato la figura del professor Decio Giosefi. Abbiamo perciò deciso di dedicare questa puntata di Trieste ed Arte, seppur parzialmente, alla figura di questa personalità del mondo dell'arte triestina. Lo facciamo assieme alla professoressa Nicoletta Zanni, alla mia sinistra, e assieme a Giuliana Carbi, dello studio Tomaseo. Prima di affrontare la figura del professor Giosefi, però, parliamo un pochettino, Giuliana, anche dello studio Tomaseo. Lo studio è antichissimo, è uno dei pochi posti che ha tenuto nel tempo nella promozione dell'arte contemporanea. In questo caso siamo in una splendida mostra che organizza Trieste Contemporanea su un artista molto, molto importante nel panorama inglese degli anni 70. Tuttavia, questo artista è romeno, è diventato naturalizzato inglese più tardi, e ovviamente Trieste Contemporanea, come molti sapranno, si occupa di arte dell'Europa dell'Est e ci fa molto piacere avere questo prestito da Musei di Bucarest che è dall'Estate, dalla fondazione che adesso è a Londra, di questo Paul Neagu, il quale fu grandissimo, non sarebbe lunghissimo raccontare, venite a vedere la mostra, così ve lo posso raccontare personalmente, ma fu soprattutto un grande influenzatore di quella che poi sarebbe diventata la grande scuola della New British Sculpture. Sono diventati tutti i Sir e tutti i Dame perché appunto hanno fatto una cosa importantissima, ma lo devono molto a questo signore che viveva a Londra e che aveva una sensibilità anche interculturale veramente inedita per gli anni 70. Tra gli artisti che ha influenzato molto c'è per esempio Anish Kapoor, c'è Anthony Gormley che secondo me si vede molto bene nei disegni che abbiamo e c'è questa cosa che è un aliason che sto pensando adesso, che lui ha usato il disegno in termini molto giosefiani. era sia una preparazione a quelle realizzazioni tridimensionali che saranno poi le sue sculture, sia un elemento autonomo di pensiero filosofico, perché tra le cose che un po' come Klein e un po' come Beuys, lui in qualche modo declinava la sua filosofia molto particolare nei disegni, più nei disegni che nelle sculture. A questo punto mi viene in mente una curiosità che fra l'altro io chiedo molto spesso ai nostri ospiti quando parliamo d'arte e pongo la domanda ad entrambe, riguarda proprio l'arte contemporanea. Io sono convinto, ma può essere che mi sbagli, che fondamentalmente l'arte contemporanea sia quella più facile da, come posso dire, persino da comprendere per certi versi, perché paradossalmente non c'è bisogno di schemi, ti piace o non ti piace. Sei un allievo di Giosefi? Allora cosa diceva Giosefi? Come prima, 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 elementarissima cosa, prima saper leggere e poi, cioè prima saper leggere e poi leggere. E il saper leggere vuol dire conoscere i codici, vuol dire tutto questo che questo nostro incredibile professore ci ha insegnato. La verità rispetto all'arte contemporanea, secondo me, ma questa è un'opinione personalissima, è che tu devi avere molta curiosità di volerla conoscere e devi avere molto entusiasmo a guardarla e solo dopo puoi decidere di voler leggere. Questo è un passaggio in più che io chiedo rispetto agli insegnamenti del nostro professore. Siamo un nucleo di tanti laureati, non si è mai parlato specificamente di scuola giosefiana, però siamo in tanti che apparteniamo a questa scuola, che abbiamo assimilato il metodo di Giosefi e che ci ritroviamo. Abbiamo seguito sicuramente strade diverse, dopo la laurea, tante professionalità diverse, chi ha insegnato all'università, chi ha scuola, chi ha fatto il giornalista, chi ha fatto il regista, chi ha fatto il bibliotecario, l'archivista, eccetera. Però ci sentiamo tutti accomunati da questa passione per la ricerca, ecco, per la ricerca, per la ricerca artistica, ma non solo, perché Giosefi, secondo me, ha avuto il merito di allargare sempre il campo ristretto dell'argomento su cui dovevamo poi confrontarci per la tesi di laurea. Cioè, non c'erano confini. Questo lo si potrebbe vedere anche scorrendo i titoli delle sue tesi di laurea, perché anche se le tesi di laurea erano di argomento spesse volte regionalistico, del territorio, della cultura del territorio, ma lui ci aveva sempre insegnato ad allargare il campo. E quindi questo è stato uno dei grandi insegnamenti di Giosefi, che è stato un grande storico dell'arte, ma anche proprio un grande docente, un maestro, potremmo dire. Io almeno lo ricordo così, io sono stata vent'anni in istituto con Giosefi, dal 73, da quando mi sono laureata, fino al 93, quando lui poi è andato in pensione. Noi ex allievi e laureati ci ritroviamo. In qualche occasione, è stato due anni fa per celebrare il centenario di Giosefi, nel 2019 avrebbe avuto appunto cent'anni, qua eravamo sempre ospiti di Giuliana ed eravamo in una quarantina di laureati. Ma adesso si profilerà un'altra occasione, perché entro l'anno, diciamo probabilmente novembre, uscirà, verrà pubblicato, un inedito di Giosefi su una storia dell'arte in Europa, che lui aveva lasciato, abbandonato, nel 93. un dattilo scritto, che poi io e Giuliana, ma con l'aiuto anche di tanti altri laureati, abbiamo così letto, imparato tante cose, perché si continua ad imparare. E questo verrà appunto pubblicato con una serie anche di immagini, sarà disponibile in versione digitale. e chi ci ha aiutato in quest'impresa, anche per l'edizione, è un professore emerito della Sapienza di Roma, Roberto De Rupertis, che era molto amico negli ultimi anni di Giosefi stesso e con il quale Giosefi ha collaborato nei convegni, sempre specificamente proprio sul disegno, per richiamare uno dei punti principali e degli interessi di Giosefi per la forma del disegno e per lo studio che ha riguardato anche tanti interventi di storia dell'architettura. Direi anche che è un volume che in qualche modo dimostrerà un'importanza internazionale, diciamo, del pensiero di Giosefi. Tu prima dicevi del mondo triestino, dell'Accademia Triestina, ma non solo questo. Vorrei ricordare che, ad esempio, Giosefi, quando era relativamente giovane, era trentenne, fu inauditamente coraggioso al punto di andare contro le tesi di Erwin Panoschi sulla prospettiva. La prospettiva sarà poi il suo momento di studio più approfondito, lui sarà conosciuto anche proprio per la riscoperta durante il Rinascimento, durante l'umanesimo italiano. Lui la chiama riscoperta di quella che era una prospettiva già formata in maniera perfetta in epoca antica, in epoca romana. Lui studia molto Vitruvio, studia, ad esempio, Agostino, che pochi sanno che Sant'Agostino ha scritto di Doctrina Cristiana alcune pagine interpretate da Giosefi come quelle del primo semiologo in assoluto del mondo. Cioè, Agostino dice che la lingua è un sistema di segni. Quindi, da questo tipo di studi, Giusefi riesce, testando proprio nel campo molto specifico della prospettiva, riesce a mettere su un modo, un metodo vero e proprio di guardare a tutti gli elementi del visivo, dell'arte visiva, come lingua. E facendo questo, riesce anche a ritornare indietro nel tempo, ad esempio, ad analizzare come gli Egizi volevano rappresentare lo spazio. Molti dicevano allora che non c'era neanche intenzione nell'arte egizia di farlo. Giusefi sbantella una a una queste posizioni e dimostra un modo sicuramente diverso da noi di, però, mostrare esattamente qual era il senso dello spazio per gli Egiziani antichi. Questo vuol dire usare un metodo e un saper leggere. Cioè, bisogna capire per ogni cultura quali sono gli elementi del codice linguistico che l'arte visiva usa e quindi sapere anche leggere, non fermarsi lì. Questo è molto importante. E Giusefi lo dice sempre perché mi serve saper leggere una lingua visiva perché dentro questa lingua io riesco a trovare dei messaggi diciamo di secondo livello che solo sapendo leggere gli elementi linguistici riesco a risalire a questi messaggi diciamo più 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 complessi i quali sono gli unici messaggi che noi dobbiamo leggere nell'arte così in quella antica come in quella contemporanea e quindi arrivando poi a capire in questo secondo livello che cos'è quello che voleva esprimere veramente l'artista ma che cos'è quello che voleva esprimere l'artista era il suo modo di sentire il mondo era il suo modo di guardare ai fenomeni alle emozioni alle esperienze sue del mondo e restituire una sua reazione che poi è quello che nell'arte visiva molti chiamano la parte diciamo estetica e la parte la parte del giudizio di valore quello che straordinariamente viene fuori dal libro poiché il campo di applicazione di questa rigorosissima analisi che questo professore che per coincidenza è un professore della storia dell'arte perché potrebbe essere partito da qualsiasi altro punto e da qualsiasi altra disciplina per arrivare esattamente a porre far porre a tutti noi l'attenzione verso un nostro comportamento nel mondo che sia responsabile allora quello che nel libro viene fuori è che in mezzo ad un campo molto più largo di tutte l'arte d'Europa di tutti gli autori fiamminghi francesi delle varie epoche dal romanico al cinquecento ma anche dall'antico viene fuori intanto per l'Europa questa grande eredità dell'antico che è quanto ci unisce e che è quanto è diciamo la base sulla quale tutte le culture visive europee poi si fondano ma viene fuori che saper leggere sempre resto a questo perché molto scherzosamente il dottor Bosazzi accetta questi questi nostri rimpalli e il saper leggere porta a saper giudicare nel momento in cui io so in mezzo a cosa sono allora so dare anche un giudizio allora so anche io ripercorrere i miei giudizi so anche cambiarli per esempio e so essere un uomo un uomo umanista questo è il grande insegnamento che Giusefi ci poteva dare anche insegnandoci ricette di cucina secondo me no Nicoletta si sono pienamente d'accordo noi abbiamo passato un anno io e Giuliana a leggere e quindi a correggere diciamo proprio a fare un lavoro di editing di questo dattilo scritto che aveva ricevuto soltanto una prima revisione e quindi noi sappiamo che Giusefi continuava a correggere anche quando era già stampato abbiamo trovato degli stampati di testi suoi con le correzioni a margine e questo questo libro quindi devo dire oltre a tutto quello che ha detto Giuliana sarà ma non solo per gli allievi ripercorrere un po' la strada che ci riporterà indietro a tutte le nostre personali esperienze ma potrà avere sicuramente anche una valenza nazionale e internazionale ci sono anche delle cose inedite cioè dei confronti inediti che sono in questo libro ma che non dico qua perché se no si brucia la sorpresa belli belli molto interessanti e super liberi perché il visivo si confronta con tutto il resto del visivo quindi ci sono degli esempi proprio inauditi che però come si può dire rendono ancora più importante il fatto che sia un autore triestino a scriverli perché parla anche di triestini molto atipici che però servono in una storia universale o per quanto meno europea dell'arte per dire le cose che questo professore voleva dire le dice con estrema libertà perché tornando a prima saper giudicare ti può anche permettere di essere molto libero in definitiva secondo me la libertà di pensiero di Giosefi è un unicum nel mondo della storia dell'arte contemporanea e questa sua idea che per molti motivi che noi tentiamo di analizzare ma sarebbe appena da cominciare a studiare seriamente e questo noi speriamo che nel campo della storiografia e della critica d'arte venga poi fatto con attenzione magari rileggendo questo libro che va ad essere pubblicato il punto di grande originalità è l'aver tentato ma anche l'essere riuscito ad applicare una scienza pratica a questo tipo di lettura dell'arte e poiché una dimostrazione di tipo scientifico ti in qualche modo ti dà la situazione del vero alla fine tutte queste sequenze di opere grandissime dell'arte universale hanno un senso e anche quando ad esempio il professore parla molto di Piero della Francesca e quando dice che dopo di Piero nessuno avrà più bisogno di dipingere come lui perché tutto quello che Piero stava cercando cioè quello che è il problema fondante di un artista perché i problemi devono sempre porsi dei problemi gli artisti devono sempre porsi dei problemi ma avere anche dei progetti su come poi andarli a risolvere ebbene Piero aveva risolto un problema che era la rappresentazione prospettica l'integralismo come dice Giusefi di questa rappresentazione per il quale non occorreva più che nessun altro prendesse quel problema in mano perché era stato risolto e questo è anche un modo di spiegare il progresso dell'arte il progresso fino al contemporaneo perché se io nel contemporaneo rifaccio Piero della Francesca non sto dando nessun significato al lavoro artistico che sto facendo e questo è chiarissimo negli insegnamenti di Giusefi il quale ultima cosa e anche questo è una bellissima è un bellissimo ritratto di questa figura grandissima il quale metteva rodava diciamo come se fosse un motore sempre acceso il suo pensiero dove non negli iscritti accademici ma nelle aule dei suoi allievi lui faceva le sue ricerche le proponeva agli allievi e poi anche dopo molti anni le pubblicava nelle riviste scientifiche della storia dell'arte quindi lui proprio sperimentava la tenuta delle sue ipotesi davanti facendoci fare anche cose molto strane ad esempio misurare sugli specchi dell'istituto i tre punti della rappresentazione di Ptolomeo che non è una cosa semplice ma è una cosa che è stata divertente per gli studenti e voglio dire tutti hanno grazie a lui amato la storia dell'arte io da studente di storia del cinema in quegli anni storia del cinema afferiva all'istituto di storia dell'arte io feci un corso monografico dove tra le tante tra le tante idee tra i tanti suggerimenti c'era un paragone per nulla campato in aria fra Tiepolo e Cecil B. De Mille Giosefi sosteneva che Tiepolo metteva in scena nei suoi affreschi nella misura in cui anni dopo Cecil B. De Mille avrebbe messo in scena le comparse e i figuranti nei suoi film nei suoi film epici e noi come dire avevamo gli esempi di queste di queste idee di queste teorie li vedevamo attraverso i diciamo in inglese si direbbe in famous che però non significa famigerati come si potrebbe pensare ma attraverso i cartoni che cosa che cose sono i cartoni perché anche riguardo ai cartoni che per noi rappresentavano uno strumento uno strumento di studio di studio quotidiano insomma significano significano qualche cosa ma delianamente ci portano a un periodo molto particolare molto bello della nostra vita cosa erano i cartoni? i cartoni erano un apparato didattico fotografico che corredava il corso che poi veniva scritto in una dispensa ora mentre le dispense dei corsi di Giuseffi che spaziano da Brunelleschi a Giotto a Tiepolo alla pittura padana del Trecento erano sempre argomenti o di arte medievale o di arte moderna con confronti molto audaci questi cartoni li abbiamo mentre le dispense dicevo sono nella biblioteca sono sempre stati nella biblioteca di storia dell'arte oggi del Dipartimento di Studi Umanistici i cartoni sono stati recuperati adesso perché giacevano in un angolo del Dipartimento e faranno parte di un fondo dicio Giuseffi che viene a far parte di quell'archivio degli scrittori e della cultura regionale che è nato negli anni 90 continua a essere una presenza importante nel Dipartimento di Studi Umanistici ma soprattutto fa parte del cosiddetto sistema museale di Ateneo ora il recupero dei cartoni quindi come sussidio didattico su cui noi abbiamo studiato tutti hanno studiato su questi cartoni il recupero delle diapositive dei vetrini che accompagnavano la lezione in classe di Giuseffi e devo dire io ho ritrovato anche cosa che sicuramente è molto importante i vetrini usati per i corsi di Roberto Salvini che aveva preceduto nell'insegnamento di storia dell'arte medievale moderna Giuseffi Giuseffi era stato assistente di Salvini e poi di Coletti la storia dell'arte è un capitolo proprio della storia dell'arte anche da un punto di vista della didattica all'Università di Trieste e quindi questi materiali che erano di aiuto per gli studenti oggi fanno storia e quindi dovevano essere in un certo senso recuperati e come testimonianza di come si faceva lezione una volta in cui non c'erano oggi usiamo i powerpoint eccetera eccetera questo era però un insegnamento proprio del visivo dell'importanza del visivo di vedere le cose di confrontarle che è stato anche uno dei tanti insegnamenti che Giuseffi ci ha dato e non solo la didattica era molto importante lui stava a lungo con i suoi allievi studenti era una presenza giornaliera in istituto mostrava le cose perché ogni volta ogni affermazione doveva essere dimostrata e non campata in aria e quindi accanto all'attività di studioso di ricercatore c'era veramente questa didattica come campo sperimentale in cui sperimentava e si confrontava col pubblico degli studenti quindi in una maniera autorevole da una parte perché era il cattedrattico ma in maniera molto generosa nei confronti dei suoi studenti perché molte delle idee che sono anche nelle tesi di laurea poi pubblicate nell'annuario di istituto arte in Friuli arte a Trieste hanno avuto in un certo senso l'orientamento da parte del maestro per questo io dico Giuseffi è un maestro e poi però lasciava libero l'allievo di andare per la sua strada per secondo i propri interessi quindi anche nella scelta degli argomenti delle tesi di laurea lui era molto disponibile a quanto gli veniva proposto dall'allievo quindi l'atmosfera devo dire che si era creata nell'istituto di storia dell'arte medievale moderna era un'atmosfera di grande collaborazione tra docenti studenti e poi c'era la presenza anche di una persona che tutti ricordiamo Luciano Maffeo il nostro bibliotecario con cui Giuseffi discuteva discuteva anche dei problemi veramente che in quel momento erano i problemi scientifici che lui doveva risolvere quindi una grande libertà quella libertà che troviamo nei testi negli scritti nell'audacia di proporre delle ipotesi l'abbiamo respirata libertà di pensiero grande grande conoscenza di tutti i periodi della storia grande conoscenza delle immagini come se lui avesse un'enorme cartella di file che scorre velocissimo ebbene già nei corsi universitari già in quelle che sono state le introduzioni al linguaggio dell'arte di ogni corso perché Giuseffi le faceva ad ogni corso e le in qualche modo traguardava al corso monografico che poi avrebbe fatto quell'anno ebbene le introduzioni generali dell'arte portano già nel 65 credo 65-66 Nicoletta un esempio che è questo qui voi vedete in alto il dettaglio del celeberrimo lavoro di Picasso dedicato a questo a questo terrificante bombardamento nazifascista di Guernica Picasso va a guardare un volume conservato a Parigi dove lui era e che racconta la storia dell'apocalisse Guernica il bombardamento è un'apocalisse e quindi vedete nell'immagine di sotto c'è questa miniatura dell'undicesimo secolo siamo nell'anno mille e qualcosa che sembra copiata con la carta a carbone da Picasso nell'uomo che urla e che è disteso ormai morto o morente quindi questa capacità di Giuseppe di cogliere il riferimento iconografico esatto Picasso non so se ci ha detto che lui guardava immagino di no conoscendo che Picasso faceva questi questi fortarelli qua e là ma ed era ovviamente un grandissimo artista ma è certo che Picasso ha guardato ed è certo secondo ancora i termini dell'insegnamento di Giuseppe che se una cosa è verosimile è possibile che sia accaduta di giuseppe di giuseppe di giuseppe di giuseppe Grazie a tutti.